Storie di tutti i giorni del 1987 di Riccardo Fogli. Sono sì canzoni di grande successo, ma questa raccolta è un qualcosa di veramente molto raro e costoso. E questa raccolta tra l'altro all'interno c'ha il libretto con i testi delle canzoni, vedete? Basta aprire la custodia e trovate il label del ct e qua ci sta all'interno lo spartito dei testi con le canzoni, vedete? Questo è un qualcosa di veramente raro, speciale. Vi leggo i nomi dei brani. Questo qua se lo volete potete trovarlo su ebay. Controllate se è in vendita, se lo trovate, compratelo. Mettete un sacco di soldini da parte, fate questo bel sacrificio e compratelo. Questo è davvero importante. Una vera chicca per tutti i fans e veri collezionisti del grande e immenso Riccardo Fogli.